il treno regionale proveniente da venezia santa lucia e diretto a trieste centrale e in arrivo al binario 1 ferma in tutte le stazioni eccetto duino timavo attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale proveniente da trieste centrale e diretto a venezia santa lucia e in arrivo al binario 2 ferma venezia carpenedo venezia mestre venezia porto marghera attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale proveniente da venezia santa lucia e diretto a trieste centrale e in arrivo al binario 1 ferma in tutte le stazioni eccetto duino timavo attenzione allontanarsi dalla linea gialla